ragazzi siamo giunti a priverno per la cicloturistica che avverrà domani adesso andremo a prendere il pacco gara dopo tutti i giri fatti stamattina adesso piccola sosta e adesso si va a vedere l'esibizione di bike trial street trial fatta da matteo corvo e il cattino non è l'esibito mappe migliorare e il cattino è un piccolo cattino e il cattino non è un piccolo mappe mangiare e il cattino e il cattino e il cattino e il cattino Funziona, abbiamo un screen Vai, tira No Di Instagram Matteo underscore Corvo e V.Frezza Vale da dare un po' di sprint ai ragazzi per evitare di, ecco, di subire, vale, ola, applauso Guardalo, bravissimo Parte anche, oh Il livello è anche principianti, quindi comunque Eccolo, salto e, mamma Quintenza, con che tranquillità E va, va, ce la va, ce la va, va Questa è la bella Bravissimo La scaravanzia Parte, parte Giochiamo tutto E che bello Esecuzione perfetta Passa 90 cm Vai, vai, vai Vai Eccolo, applauso Applauso Anche la caduta fa parte dello show Sì, c'è un po' di provato per riprovare Buongiorno Parte Peccato Peccato Parte Vincenzino Attenzione La prende leggermente larga Salta Attenzione 105 cm Vincenzino Lo stambecco Di San Martino Arriva Vincent E in frattempo Scimpa la forza La signora Vincenzino Un millimetro Un millimetro Bravo Hai vinto 47 panini Va, salta E attacca i peg Contro gli ostacoli Buona Vai, vai Guarda Stiamo indietro Ah, Vincenzino Parti Attenzione Che le pegate Sul carrello 360 Infatti così Sollione Matteo C'ha l'asso Nella manica Vabbè C'è C'è Ci stiamo Vedendo Perché Luca Vediamo se funziona Vai, vai Era questo Bene Bene Rampo Rampo Arresto Salto Attenzione Rampo Attenzione Guardatela bene Cosa non ha La Primo tentativo No Eccolo Ve l'ho detto Ve l'ho detto Ragazzi Vai, vai 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 Bravissimo Matteo Applauso Adesso raggiungerò Il punto di incontro Per fare Regolazione E poi Aspetteremo La partenza Grazie Grazie Grazie.